Da oggi, 15 marzo fino al 6 di aprile, l'Italia si ritrova divisa in zona rossa e in zona arancione, ad eccezione della Sardegna che rimane in zona bianca. La Regione Marche dunque si tinge di rosso per le prossime due settimane, quindi significa maggiore attenzione, più controlli, più chiusure e restrizioni, come la chiusura di alcuni parchi e strutture sportive all'aperto. Le prime strutture ad essere state chiuse nel comune di Fano sono state il circuito Marconi e la pista dello skate park nel quartiere di Sant'Orso. Nonostante l'ordinanza, che ha visto delimitare gli accessi con cartelli e transenne, c'è chi, in barba ai provvedimenti, ha pensato di scavalcare le recinzioni rovinandole e di usufruire comunque la struttura per allenarsi o per incontrarsi. Dopo questi fatti, l'assessore allo sport, Barbara Brunori, ha voluto lanciare un appello. Ieri mattina sono stata chiamata dai gestori dell'impianto perché alcune parti della recinzione sono state divelte e mi sento rammaricata per questo, perché questo circuito è di tutti, tutto quello che danneggiamo è nostro e dobbiamo veramente appellarci al senso di responsabilità, soprattutto in un momento come questo, dove se ci sono delle regole, come nella vita di tutti noi, le dobbiamo rispettare. Le dobbiamo rispettare perché la situazione degli ospedali sta diventando come quella dello scorso anno e oggi, purtroppo, ci sono anche molti giovani all'interno di questi casi. Io veramente mi appello alla cittadinanza con un senso pieno di responsabilità, dicendo che non è per sempre, è uno spazio fortunatamente che passerà velocemente. Cerchiamo di fare sport all'aria aperta perché anche io ieri sono andata a fare la mia camminata, non qui ma fuori, nel distanziamento giusto e con le precauzioni. L'assessorato, inoltre, chiarisce che la struttura del Marconi rimarrà ad uso soltanto degli atleti che praticano lo sport agonistico e di competizione nazionale. Tra questi è compresa la società ciclistica Alma Juventus, gli arcieri, i giocatori di baseball e la società d'atletica. In questi giorni, ha continuato poi l'assessore, abbiamo chiesto alla polizia locale un forte presidio e più controlli nella zona sportiva Trave e nelle altre località di Fano, con multe e trasgressori. E per i trasgressori, naturalmente, non ci sarà tolleranza perché si parla di 400 euro che verranno applicate. E quindi, uomo avvisato, mezzo salvato.